La Polizia Municipale La Polizia Municipale La Polizia Municipale ha attivato un nuovo servizio sperimentale che permette ai cittadini di fissare un appuntamento in videochiamata per richiedere informazione e assistenza su vari temi. Il servizio è di diretta Bezzi. Sportello al cittadino online è il nuovo servizio della Polizia Municipale di Prato che permette ai cittadini di ricevere assistenza in videochiamata. Il servizio attivato in via sperimentale il martedì e il venerdì dalle 16 alle 18 fa parte del programma Agenda Digitale della città e consente a tutti i cittadini, anche non residenti, di poter richiedere informazioni e chiarimenti riguardo a verbali per infrazioni al codice della strada, permessi ZTL, ingiunzioni di pagamento e molto altro. È uno sportello virtuale che cerca di agevolare magari coloro che hanno meno tempo a disposizione ma hanno a disposizione un tablet, uno smartphone e un pc e hanno o vengono da un'altra regione o hanno difficoltà di mobilità. Quindi uno sportello virtuale in modo da avere tutte le spiegazioni su un verbale, su un permesso d'accesso alla ZTL, sulla modalità di compilazione di qualsiasi tipo di istanza. Quindi è un servizio in più che si affianca a quello fisico in maniera virtuale per avere un duplice obiettivo, quello di essere sempre più vicini al cittadino e favorire la non mobilità, non lo spostamento fisico dal proprio luogo di lavoro o abitazione. Lo sportello consente ai cittadini di poter fruire dell'assistenza di un operatore direttamente prenotando un appuntamento in videochiamata da smartphone, pc o tablet, evitando così spostamenti fisici e tutti i disagi che ne derivano. Per accedere al servizio basta seguire le indicazioni sul sito della Polizia Municipale. Una volta che è sulla piattaforma l'utente accede indicando qual è il giorno e l'orario dell'appuntamento che vorrebbe prendere e comincia a inserire tutti i dati sulla seconda pagina. Quindi l'utente riceverà una prima mail dove avrà un codice di verifica che gli consente di andare al secondo step, alla seconda pagina dove poi riceverà la conferma dell'appuntamento. Da lì in poi l'utente accede al mio portale. Nei giorni scorsi una pattuglia del reparto motociclisti della Polizia Municipale è intervenuta lungo la pista ciclabile di Viamonè per sventare un furto e danni di un cittadino cinese ad opera di due malviventi che però sono riusciti a scappare. Il giorno seguente un agente della Municipale fuori servizio ha riconosciuto uno dei due ladri avvisando subito la centrale. L'uomo è stato fermato da una pattuglia intervenuta sul posto. Si tratta di un 31enne originario del Gambia che indosso aveva un coltello con lama di 10 centimetri. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per tentata rapina e possesso ingiustificato del coltello. Cambiamo argomento. Il corteo del primo maggio è tornato ad attraversare le vie e le piazze del centro storico in occasione della festa dei lavoratori. Una giornata, quella di ieri, segnata dal Consiglio dei Ministri per il DL e il lavoro. Organizzazioni sindacali convocate all'ultimo momento accusano i sindacati confederali che si sono dati appuntamento il 6 maggio a Bologna per la mobilitazione interregionale. Vediamo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il primo articolo della Costituzione è lo slogan scelto quest'anno dai sindacati per la manifestazione del 1 maggio a Prato. La festa dei lavoratori è iniziata alle 9 con la messa in Duomo. Il corteo ha poi preso avvio un'ora e mezzo dopo da Piazza Mercatale. I comizi si sono tenuti come da tradizione in Piazza delle Carceri, da dove ha parlato anche il sindaco Matteo Biffoni, mentre la chiusura è stata affidata al segretario generale della UIL Toscana, Paolo Fantappie. Una festa dei lavoratori, quella di quest'anno, segnata dallo scontro tra sindacati confederali e governo, che proprio nella giornata del 1 maggio aveva fissato il Consiglio dei Ministri sul DL lavoro. Il 6 maggio CGL e Cisle Will hanno indetto una manifestazione interregionale e unitaria a Bologna per sostenere le richieste nei confronti del governo sui temi della tutela dei redditi, della riforma del fisco e del potenziamento occupazionale. Non è possibile convocare le organizzazioni sindacali all'ultimo momento in prossimità dell'uscita di un decreto. C'è un interesse generale del Paese, c'è un bisogno di coesione, c'è necessità di approfondire su temi come fisco, pensione, lotta al precariato, che necessitano di un dialogo attento e di una individuazione degli strumenti adeguati. Sul tema del lavoro il governo ha fatto scelte sbagliate, sta continuando a fare scelte sbagliate, non contrasta la precarietà, non aumenta realmente i salari, non si occupa di una politica di redditi vera, di una politica industriale vera, non interviene sulle pensioni e soprattutto non dà risposte alla parte più povera del Paese. Noi chiediamo al governo un lavoro più di qualità, più stabile, sicuro e con salari adeguati. Per questo in Toscana noi abbiamo ancora molto lavoro povero e anche condizioni di sicurezza non all'altezza di questa regione. Abbiamo avuto nel 2022 55 morti sul lavoro e nel 2023 non si apre nei migliori auspici. Chiediamo alla regione Toscana l'apertura di un confronto immediato per parlare degli investimenti che provengono dall'Europa. 10 miliardi che vengono dal PNRR e che possono generare maggior lavoro e maggior qualità di lavoro e di vita per i lavoratori. Maggio è un mese tradizionalmente legato a Maria. Per questo motivo da secoli a Prato si celebra la ricorrenza del primo maggio con l'ostensione del sacro cingolo mariano. La preziosa reliquia è stata offerta alla venerazione dei fedeli secondo l'antico rito dei tre passaggi del vescovo Giovanni Nerbini dal pulpito di Donatello e dalla loggia del Ghirlandaio. Per legare la ricorrenza alla festa dei lavoratori, solitamente testimoni del rito del primo maggio, sono scelti tra coloro che hanno il titolo di maestri del lavoro. Quest'anno sono stati Sonia Francini e Giovanni Guantini. Inaugurati nel centro storico due nuovi defibrillatori. I dettagli nel servizio. Prato può contare su due nuovi defibrillatori semi-automatici posizionati nel cuore del centro storico. Uno in piazza del comune, lato Urp, e l'altro in piazza Duomo, a fianco agli uffici di Autolinee Toscane. I due strumenti sono stati donati al comune da Sergio Bastoggi della ditta Cipriani Dolciumi e dall'Arci Confraternita della Misericordia. All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco Matteo Biffoni, il proposto della Misericordia Gianluca Mannelli e il vicario generale della diocesi, Monsignor Daniele Scaccini. Mio marito, in occasione del suo tantesimo compleanno, per festeggiare l'anniversario, ha deciso di donare questo defibrillatore alla città senza fare ulteriori festeggiamenti, tipo scene e così via. E quindi poi l'ha donata all'amministrazione perché ne facesse l'uso che riteneva più opportuno. Quindi un modo anche alternativo di festeggiare il compleanno, diciamo così, non per se stessi ma per la cittadinanza. Sì, perfetto. Mio marito ha preferito fare questo. Purtroppo abbiamo dovuto aspettare un po' a causa della pandemia, insomma, però lui non ha fatto in tempo a vederlo perché purtroppo è morto nel novembre del 2021. Però il gesto di grande altruismo resta. Quello rimane, si pensa proprio di sì, insomma. La Misericordia si occuperà della gestione e del funzionamento di tutti i defibrillatori presenti in centro storico. Noi crediamo molto in questi strumenti salvavita e alla protezione, alla cardioprotezione del centro storico. La Misericordia inoltre si assume anche l'onere della manutenzione di altri tre defibrillatori precedentemente installati in città, cioè quello alla palazzina della Polizia Municipale, l'altro alla stazione del Serraglio e l'ultimo alla biblioteca del Zeriniano. Crediamo appunto di dare a una mission, la mission della Misericordia è quella di stare sempre intorno alle persone e alle necessità della gente. E anche in questa occasione il nostro intento è questo. Incontro questo pomeriggio in Palazzo Comunale tra il sindaco Matteo Biffoni e l'ambasciatore del Giappone in Italia Suzuki Satoshi. Presente anche il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli, l'ambasciatore in questi giorni in visita a Prato ha espresso grande interesse per la città e in particolare per la sua tradizione tessile, oltre a congratularsi per la mostra al Museo del Tessuto Kimono, riflessi d'arte tra Giappone e Occidente. Don Massimo Vacchetti, sacerdote conosciuto sul web per i suoi interventi da migliaia di visualizzazioni e per il suo passato da Ultras del Bologna, ha raccontato nella chiesa di Sant'Agostino il meraviglioso poliedro, al centro della sessantesima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Tonaca lunga, maniche arricciate sopra il gomito, è un modo di parlare che arriva subito al cuore di chi lo ascolta. Si presenta così Don Massimo Vacchetti, prete bolognese classe 1972, noto sul web per i suoi interventi, le cui visualizzazioni sono nell'ordine delle migliaia. Il centro diocesano vocazioni e la pastorale giovanile di Prato lo hanno scelto per condurre la sessantesima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che si è tenuta domenica 30 marzo nella chiesa di Sant'Agostino. Il titolo scelto per quest'anno è un meraviglioso poliedro, espressione usata da Papa Francesco nell'esortazione apostolica Christus Vivit. La chiesa italiana ha scelto un meraviglioso poliedro come immagine per raccontare ai giovani la bellezza della vita spesa per Dio. La vocazione, ogni vocazione appartiene a Dio che ne fa un meraviglioso poliedro. Perché gli uomini da qualunque lato possono incontrare il mistero, il suo mistero, la sua presenza in mezzo a noi, che sia dall'atto della vita nuziale, dall'atto della vita religiosa, dall'atto della vita claustrale, da quello monastico, da quello missionario, o da quello sacerdotale, possano vedere il riflesso del suo volto splendido. Appassionato di calcio e tifoso sfegatato del Bologna, Don Vacchette aveva scelto di intraprendere la carriera di arbitro, ma inaspettatamente è arrivata la vocazione al sacerdozio. La vocazione di ciascuno è un mistero che si accende nelle modalità e nelle forme più inedite. Non è che possiamo programmare il modo in cui Dio ti raggiunge. E così anche per me. La vita divina è entrata in me in una maniera del tutto inaspettata. Non è un qualche cosa che uno può programmare. D'altra parte è come un innamoramento. Uno si innamora perché vede qualche cosa di bello. E da lì comincia un battito diverso del cuore della vita. Il ritmo della vita diventa immediatamente diverso. Partito Democratico, Comunità e Politica. E questo è il titolo dell'incontro organizzato dal sindaco Matteo Biffoni per domani alle 18.30 alla Circolo di Coiane, a cui parteciperà anche il presidente del PD Stefano Bonaccini. Una specie di vertice dei riformisti del PD, chiamati a raccolta dopo la sconfitta alle primarie del leader Bonaccini. All'incontro parteciperà anche il segretario provinciale del partito, Marco Biagioni. L'economista Severino Salvemini, protagonista di un nuovo incontro firmato da Prato Futura e PIN. L'appuntamento è per domani alle 18 a Manifatture Digitali Cinema. Un incontro aperto a tutti per guardare insieme al futuro, a cui parteciperanno imprenditori, docenti universitari e gli altri attori dell'economia locale. Guiderà l'incontro lo scrittore Giorgio Van Straten. Intervengono il presidente di Prato Futura, Marco Ranaldo, e la presidente del PIN, Daniela Toccafondi, che abbiamo intervistato a Scalutiamo. Severino Salvemini non è la prima volta che viene a Prato, però ci racconterà un po' la sua ricerca fra aziende importanti del settore del Made in Italy in tutta Italia e le loro scelte anche strategiche di crescita dimensionale, di affermazione sui mercati internazionali. Questo ci servirà un po' per capire le nostre imprese, come sono posizionate e se ci sono degli elementi da cui potremmo trarre spunto per fare delle scelte anche qui nel nostro territorio. Secondo lei, dal suo osservatorio, qual è la ricetta per far crescere il distretto pratese? Ma anche nel volume di Salvemini, che è una cosa abbastanza anomala, si racconta che non è una storia aziendale quella che fa fare successo, ma è una storia aziendale più una partecipazione ad un contesto che facilita le cose. Quindi io credo che anche per Prato ci voglia una volontà sia imprenditoriale sia delle imprese, ma anche una serie di scelte di supporto a queste imprese che facilitano dei cambiamenti che adesso sono necessari. Restiamo nel tema di economia. Banca Alta Toscana approva il bilancio 2022 che fa registrare un risultato record, oltre 12 milioni di euro di utile netto. L'Assemblea dei Soci di Banca Alta Toscana, riunitasi nel forum dell'Istituto di Credito Cooperativo di Vignole a Quarrata, ha approvato il bilancio 2022, un anno record per Banca Alta Toscana che si è chiuso con un utile netto di 12,6 milioni di euro, il miglior risultato storico della BCC. L'utile dell'esercizio è stato destinato per oltre 12 milioni di euro alla riserva legale, consentendo la crescita dei fondi propri della banca che hanno superato i 106 milioni. È un anno positivo, un ottimo bilancio che ci permette di fare di più sul territorio, ci permetterà di fare più prestiti e mutui ai nostri soci e clienti e ci permette di essere un volano importante dell'economia locale dove c'è una banca di credito cooperativo sicuramente l'economia ne guadagna, ne guadagnano le nostre comunità anche per tutta l'attività che facciamo in favore delle associazioni, degli enti. Nella sua relazione il direttore generale di Banca Alta Toscana, Tiziano Caporali, ha illustrato i dati di bilancio, tutti positivi. Abbiamo confermato il ruolo di banca di rilevo nel territorio supportando famiglie e imprese con più di 153 milioni di nuovo credito erogato a favore dei 10.672 soci e degli oltre 50.000 clienti, ha affermato Caporali. La raccolta complessiva è cresciuta del 22%, attestandosi a 1,8 miliardi di euro. Gli impieghi lordi sono aumentati del 18%, mentre il tasso dei crediti deteriorati lordi si attesta a 3,4%, un valore più basso di moltissimi istituti bancari. Un bilancio che ci dà soddisfazione, una soddisfazione che però vogliamo condividere col territorio, un territorio che ci è affezionato, a cui cerchiamo di dare servizi, che però ci restituisce affetto, bancariamente parlando, e che quindi è fedele ai nostri principi, è costantemente in contatto con la nostra banca e ci consente di poter sostenere che siamo una banca adatta a tutti, adatta ai giovani, adatti ai meno giovani, adatti alle imprese, che può guardare al futuro prendendo atto da questo presente molto positivo, ma che mantiene le proprie radici in un passato che sono le origini, i principi della cooperazione di credito. Si è rinnovata anche quest'anno l'iniziativa benefica Pasta Tricolore, centinaia le donazioni pervenute all'Associazione Accademia di San Giusto. Sono state raccolte 8 tonnellate di alimenti e prodotti per la persona nell'ambito della quarta edizione della Pasta Tricolore. La raccolta alimentare è stata organizzata dall'Associazione Accademia di San Giusto negli spazi dell'ex teatro di San Giusto, invitando cittadini, associazioni e imprenditori a donare per aiutare le famiglie pratesi in difficoltà. Donazioni sostanziose sono state effettuate dagli imprenditori Andrea Tuparelli della Prato Scavi, Emanuele Usai del Panda Sebac e poi dalla palestra Universo, Tuscany Motors e da tanti singoli cittadini pratesi. Anche quest'anno la raccolta della pasta Tricolore, giunta alla quarta edizione, conferma le 8 tonnellate raccolte di alimenti a lunga conservazione. Grazie ai tanti imprenditori, ai pratesi, che donano ogni anno in questa raccolta che dura poche settimane e riesce a fare questo risultato e grazie soprattutto ai volontari dell'Accademia di San Giusto. Gli alimenti raccolti saranno divisi e consegnati a varie realtà associative del territorio. In alternativa, le famiglie pratesi in difficoltà potranno contattare per il ritiro degli alimenti anche direttamente l'Associazione Accademia di San Giusto. Gli alimenti raccolti verranno donati alla Caritas, alla Messa La Pira, alle parrocchie e alle famiglie bisognose del territorio che ci contatteranno. E siamo al calcio, manca ancora una partita al termine del campionato e col pareggio di domenica il Prato ha ottenuto la salvezza matematica. Per i biancazzuri però la stagione non può dirsi pienamente soddisfacente, gli obiettivi erano certamente più ambiziosi. Manca solo una partita al termine della stagione, ma per quanto riguarda il Prato sarà un influente ai fini della classifica. I biancazzuri col punto ottenuto domenica contro l'Aglianese hanno raggiunto la salvezza aritmetica, più di quello non potranno fare. Certamente si tratta di un obiettivo minimo, non quello a cui puntava la società di inizio stagione, tantomeno quello che si aspettava e ne auguravano i tifosi, che hanno già fatto capire di aspettarsi tutt'altro la prossima stagione. Giocatori e tecnico ne sono consapevoli, lo hanno detto a più riprese, e allora proviamo a capire senza la presunzione di essere infallibili perché quella del Prato è stata una stagione al di sotto delle aspettative. Innanzitutto la partenza da Handicap, con 10 punti nelle prime 10 giornate della gestione Favarin, un rendimento da retrocessione che ha costretto la società ad allontanare il tecnico, peraltro in rotta anche con la tifoseria. Poi alcune scelte sbagliate in sede di costruzione della squadra. Il fatto che nella stagione si siano avvicendati ben quattro portieri la dice lunga. L'aver puntato su un attaccante, Colombi che alla prova dei fatti ha fallito, segnato col contagocce e venendo poi ceduto nel mercato invernale. Altro aspetto, quello degli infortuni. Un giocatore importante come Frugoli ha giocato solo scampoli nel finale di stagione. Mobilio, il miglior giocatore della squadra, è mancato per gran parte del girone di ritorno. Resta il crucio senza risposta. Come sarebbe stato il Prato con tutti questi giocatori a disposizione contemporaneamente? Non si possono poi dimenticare sei punti ottenuti sul campo e cancellati dalla giustizia sportiva per questioni ben note. Soprattutto quelli regalati al Real Forte Querceta restano una ferita ancora aperta, che fa male per come è maturata e per l'errore grossolano commesso. Poi ci sono i numeri che certificano come il Prato abbia perso troppe partite, una su tre, e incassato troppe reti, risultando tra le peggiori difese del torneo. Nella stagione restano anche l'amarezza, per i due derby persi e l'aver concesso al Salso Maggiore ultimo in classifica ben quattro punti dei 13 totali raccolti dagli emiliani, che col Prato peraltro hanno vinto l'unica partita del campionato. Alla prova dei fatti si può dire che questa formazione avrebbe potuto lottare tranquillamente per un posto play-off e che per la somma dei fattori sopra elencati probabilmente ha fallito l'obiettivo. Ci sono ovviamente anche cose da salvare. A partire da alcuni singoli, Angeli, Nicoli, Trovade, Cela, Mubilio e Di Allò, sono stati comunque protagonisti di una stagione più che positiva. Il Prato di Brando si è caratterizzato per la predisposizione offensiva a fare la partita, ha creato tante occasioni, giocando a volte in maniera brillante. Di fatto ha vinto la metà delle partite giocate, ottenendo sul campo 45 punti in 27 partite. Se dovesse dare un voto alla stagione del Prato, che voto darebbe? È stata una stagione condizionata da troppe cose. Quindi capisco l'entità della domanda, sicuramente una sufficienza piena, impossibile andare oltre, perché abbiamo tutti la consapevolezza che questa è una squadra che avrebbe potuto essere in una graduatoria migliore. Sul campo questa è una squadra che ha fatto tanti punti, ma tanti tanti, però purtroppo classifica la mano, non possiamo andare oltre. Ora bisognerà cominciare a pianificare la prossima stagione, con la speranza di recitare un ruolo diverso. Molto dipenderà ovviamente da chi siederà a settembre sulla panchina bianca azzurra. Il contratto di Brando scade il 30 giugno, la società aspetterà a decidere se ha meritato o meno la conferma. E in occasione del match con la Ianese, società e tifosi hanno voluto omaggiare e salutare il capitano del Prato, Claudio Shannamè, che domenica prossima giocherà la sua ultima partita prima di dare l'addio al calcio. Lo fa dopo aver collezionato 126 presenze con la maglia bianca azzurra. Io gioco a pallone praticamente da 30 anni, quindi posso dire che non è un bel effetto o decidere una cosa simile. Però è chiaro che nella vita ci sono dei momenti in cui devi scegliere e quindi più volentieri che cercare fortuna in altre categorie o maglie mi fermo qui, anche perché sono sicuro che di aver dato tanto a questo sport ogni giorno della mia vita, tanto per tutte le squadre per cui ho giocato, però sono certo veramente di aver dato tutto quello che ho per il Prato. Quindi sono tranquillo, sono anche felice di potermi guardare indietro e non dovermi rimproverare niente perché comunque veramente sono contento, orgoglioso per tutto quello che ho fatto. E in bocca al lupo a Claudio Shannamè, passiamo al calcio giovanile con la sedicesima edizione del trofeo Jacopo Menchi. Vediamo come è andata. E' stato il limite Capraia ad aggiudicarsi la sedicesima edizione del trofeo Jacopo Menchi. Per la prima volta nella storia della manifestazione è stata una formazione dilettante a vincere mettendosi alle spalle il Parma, superato in finalissima per 3 a 1. Clamoroso, il limite Capraia vince, il trofeo Menchi è una vittoria strameritata, avete dominato il torneo. Sì, diciamo che è stato bello, dai, bello per me, è stato importante. Abbiamo una squadra fisica, in questo torneo si è visto perché ha prevalso veramente l'aspetto fisico. Poi sai, sono finali, le finali bisogna buttarla dentro, si è buttata dentro e siamo stati bravi, sono stati bravi veramente ragazzi. Davvero strepitoso anche il quarto posto dei padroni di calza della Pietà 2004, che hanno fatto percorso netto nel girone di qualificazione, superando Roma, Udinese e Sampdoria, e arrendendosi in semifinale solo alla lotteria dei calci di rigore al Parma. È una grande soddisfazione per il gruppo, la squadra dei ragazzi, la società, che comunque si ammette santissimo impegno in una manifestazione così bella, con un pubblico veramente appassionato e sono soddisfattissimo. Un aggettivo per questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di... straordinario. È stato un vero successo di pubblico, un vero spot per il calcio giovanile e poco importa se nella giornata finale la vera protagonista è stata la pioggia. Sì, è stata una bella manifestazione, siamo giunti alla sedicesima edizione di questo torneo che ormai è rinomato a livello nazionale, con le migliori squadre italiane che tutti gli anni puntualmente accettano l'invito e partecipano calorosamente a questo torneo. Quest'anno siamo molto contenti, abbiamo fatto un ottimo risultato noi come Pietà, arrivando nei primi quattro per la prima volta nella storia di questo torneo. Come si diceva ora, a parte l'ultima giornata di pioggia è andato tutto veramente a gonfia e vela. Adesso è il momento dell'agenda e vediamo quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato e provincia. Domani alle 16.30 alla Biblioteca Roncioniana presentazione del libro Nulla è più caro della libertà Cesare Guasti, 1822-1889 Fede e storia di Don Enrico Bini. Alle 18 presso Manifatture Digitali Cinema il Quid imprenditoriale, incontro promosso da Prato Fatture e PIN con l'economista Saverino Salvemini. Sempre alle 18 al Centro Pecci nell'ambito della rassegna Centro Pecci Books presentazione del libro Ma chi me lo fa fare? Di Maura Gancitano in dialogo con la giornalista TV Prato, Giulia Ghizzani. Vi lasciamo al meteo a seguire intorno alle 9 e poi la telecronaca di Prato aglianese per questa edizione è davvero tutto grazie ad averci seguito buon proseguimento di serata. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti. Prato all'armi una sicurezza da Oscar Era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui mi definivano abile scaltro infallibile e anche se non ce l'ho fatta ci riproverò potete stare tranquilli voi con PratoPol non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Problemi di vista? Ottica Look Vision il piacere di vedere bene Via Ada Negri 84-86 Prato Una buona serata a tutti quella che vedete alle mie spalle è la carta della pressione al suolo prevista per la giornata di domani possiamo osservare una vasta area di alta pressione sull'Europa centrale che si porta anche verso il Mediterraneo occidentale la depressione che invece ci ha interessato fino ad oggi è presente sull'Italia meridionale e tende a colmarsi e ad allontanarsi verso sud-est la previsione quindi per la giornata di domani vede un graduale miglioramento ancora in mattinata un cielo in prevalenza nuvoloso con delle debole residue precipitazioni soltanto lungo la dorsale appenninica il vento ancora da nord-est ma in attenuazione nel corso del pomeriggio ampie schiarite su tutta la regione a partire dalle zone costiere via via tra il pomeriggio e la sera il cielo diverrà sereno un po' ovunque i venti in ulteriore attenuazione le temperature in aumento nei valori massimi fino ai 19-21 gradi a partire la a partire a partire Grazie a tutti